Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. Fabio Fortuna, professore, buongiorno, bentrovato. Buongiorno a lei, eccoci qui. Ci aiuterà a leggere e commentare i quotidiani in edicola. Io partirei da qui, dal Corriere della Sera, professore, dalle parole di Sergio Mattarella che sono in primo piano. Condannare ogni violenza è uno dei passaggi dell'intervento di ieri del Presidente della Repubblica che non si è sottratto all'interlocuzione con gli studenti che alla Sapienza manifestano per la Palestina. Parla agli studenti su Gaza, cessate il fuoco, sì, al dialogo tra gli Atenei. E allora, professore, io partirei da qui, da queste parole che sintetizza in questo modo il Corriere della Sera, da quest'altra che stanno sempre in primo piano, in questo caso sul Messaggero, sempre di Sergio Mattarella, i diritti valgono per tutti, Mattarella sfida la protesta degli studenti alla Sapienza. Non so se è una sfida, però si mette in modalità di ascolto e di dialogo il Capo dello Stato anche con questi studenti. L'Italia contrasta sempre le violenze, dalla Palestina all'Iran, e avverte che il peggiore potere vuole gli Atenei isolati. Io ho un rettore ospite, professore, parto da qua. Il peggiore potere vuole gli Atenei isolati? La frase è abbastanza forte. Certamente la cultura deve permeare poi tutti i comportamenti umani, quindi lo studio non è fine a se stesso. Crescere in cultura vuol dire apprezzare, valutare con attenzione tanti principi, tanti valori che poi servono nella vita di tutti i giorni. Questo è il compito che hanno le università, cioè quello di aggregare, di mettere a confronto le idee, ma in modo pacifico, come ha detto il Presidente, senza violenza. E questo è il punto essenziale. È evidente che col suo solito equilibrio si è rivolto agli studenti della Sapienza, perché nessuno ha il dono dell'ubiquità e quindi non può andare in tutti gli Atenei italiani, ma era un discorso rivolto a tutti, ma direi anche oltre i confini nazionali, soltanto con un sano confronto si riesce ad andare avanti e a crescere. E poi l'importanza del dialogo. Sì, anche a me questo sostantivo sfida, insomma, piace fino a un certo punto, perché non è una sfida del Presidente e degli studenti, in senso metaforico, cioè ha voluto mettersi di fronte agli studenti, dialogare, esprimere il suo pensiero, perché il dialogo con i giovani è importante. Ad esempio anche l'assimilazione da parte dei giovani di tutti i valori, di tutti i doveri, di diritti dei cittadini, la famosa educazione civica, no? Si dice di potenziarla nelle scuole secondarie, nelle scuole primarie. Sì, va potenziata, però l'educazione civica la devono fare un po' tutti coloro che insegnano, tutti i docenti. Io la vedo come una materia trasversale, che per me è un po' tutte le altre, perché sono le basi per la democrazia e per una crescita sana dei giovani. Io mi sentirei di dire che è stato anche, non solo, ma anche un saggio di educazione civica, quelle parole di Sergio Mattarella, che vengono commentate così dal Professor Massimo Adinolfi, il Colle è la lezione che parla di rispetto. Che cos'è un'università? Un'istituzione che ha parecchi secoli di storia, che ovviamente non è rimasta sempre uguale a se stessa, ma qual è l'idea che la ispira? Ecco, ieri il Presidente della Repubblica, scrive il Professor Adinolfi, ha tenuto un breve discorso e ha risposto agli studenti che gli dicevano, Presidente, a che parte stai con la Palestina o con Israele? Ha risposto Mattarella, ha cominciato ringraziando per l'invito a essere presente alla cerimonia, ma ha subito inserito una pausa di riflessione perché si avvertisse il senso di una presenza, niente affatto rituale o di circostanza. Le parole sono così arrivate alla platea con tutta la chiarezza e la fermezza necessaria. parole che, com'è nello stile del Presidente, sono state chiare e inequivocabili. E poi aggiunge il Professor Adinolfi altre riflessioni, ha ricordato quello che l'Italia ha detto alle Nazioni Unite, lui a nome per conto del nostro Paese ha detto alle Nazioni Unite, richiesta di immediata discessata il fuoco, rispetto dei diritti fondamentali, della dignità della persona che vale per tutti e non soltanto per una parte, è difficile non avvertire in queste parole una lezione che viene direttamente dalla nostra Carta Costituzionale, i diritti come unico possibile fondamento nel rispetto reciproco e nell'eguale riconoscimento. Ecco, là dentro c'è anche il concetto, anzi c'è anche la risposta alla domanda iniziale, che cos'è un'università? È esattamente quella roba lì. Vedo che il Professor Annuisce mi comporta molto, ovviamente. Il Presidente deve essere d'esempio anche per tutti i docenti, perché non bisogna parlare dal lato della cattedra, ma simbolicamente bisogna mettersi sullo stesso piano degli studenti, ciascuno nei propri ruoli e nel rispetto reciproco. Questo è il compito del docente oggi, perché i tempi sono molto delicati, nessuno avrebbe pensato a ciò che sta succedendo in questo periodo. Quindi è essenziale che i giovani crescano con dei valori sani e che attraverso i processi formativi li acquisiscano. Prima ha detto dialogo e confronto come messaggio sia agli studenti, al mondo dell'università, della scuola, all'opinione pubblica italiana, ma anche internazionale. Ecco, dialogo e confronto sono un po' le cose che vanno riscoperte per ritrovare il senso della misura. Il fondo di Antonio Polito, le colonne sono quelle del Corriere della Sera. La politica nei futuri Stati Uniti ed Europa sarà percorsa dallo stesso rivolo di violenza insanguinato che ha insanguinato gli Stati Uniti. L'attentato a Robert Fizzo fa vivere a noi europei sentimenti di sconcerto e di paura che l'opinione pubblica americana ben conosce. Ricorda i casi di violenza politica in America, dove l'uomo qualunque con la pistola, l'insospettabile che si vendica dei torti subiti dalla società, rappresenta un filone particolare della violenza, più individualistica ed esistenziale che organizzata e terroristica, di sicuro la radicalizzazione della lotta politica, l'estrema polarizzazione che soprattutto negli ultimi decenni ha assegnato la vicenda americana, ha svolto un ruolo decisivo nell'eccitare i più fascinorosi. Poi ricorda Polito che un tempo le elezioni si vincevano al centro con un discorso moderato, oggi invece si vincono alimentando i sentimenti delle fasce di popolazione più radicali. Uno stile paranoide della politica che abbiamo mutuato dagli Stati Uniti, teorie cospirative, complottismi, campagne di fake news, insomma si rifornisce il vasto serbatoio di rabbia che giace al fondo della nostra società, laddove la politica democratica non arriva e si afferma la subcultura dell'odio. La razionalità è bandita dal dibattito pubblico, schernita come cerchio bottismo a differenza del settarismo che impone di prendere partito sempre e comunque per alimentare un complesso politico-mediatico che vive di risse, fazioni, faide e congiure, come avveniva nei comuni medievali. E tutto questo, professore, le domando, non è che faciliti la partecipazione politica, infatti l'astenzione vola sempre più in alto. Sì, non la facilita, però i toni sono molto perentori. È vero che importiamo un po' tutto dall'esperienza anglo-americana, perché gli Stati Uniti in tutti i campi negli ultimi decenni sono stati da traino, però speriamo di non importare completamente anche queste cose che assolutamente non vanno bene. La violenza è un sostantivo che dovrebbe scomparire, certo, questa non è cosa che nella realtà potrà mai succedere, però oggi esistono anche delle forme di controllo delle attività delle persone più esposte che sono più sicure rispetto, per esempio, all'assassinio del Presidente Kennedy. Oggi la sofisticazione delle forme di tutela, dell'incolumità dei soggetti più esposti sono notevolmente migliorate. Meraviglia quello che è successo in Slovacchia, perché indubbiamente lì forse qualche carenza nella sicurezza c'è stata. Poi certo, impossibile prevenire, prevedere tutto, in quel caso era difficile, ma non doveva accadere. Quindi non sarei così perentorio nel dire che noi stiamo importando anche queste caratteristiche che a mio giudizio non sono positive, che le stiamo importando completamente dai Stati Uniti. Resto del Carlino proprio sul clima che si respira in Europa e che è esploso con quei cinque colpi di pistola che hanno gravemente ferito Robert Fizzo, primo ministro di Slovacchia. Violenza che sarà vista anche nella campagna elettorale di Germania. L'avevamo raccontata poco, troppo poco e ora stiamo riscoprendo come questo rischio violenza in Europa accompagnato alle elezioni e alla campagna elettorale sia un dato di fatto. Questo è il resto del Carlino, come dicevamo. Dopo l'attentato al Premier Slovacco arriva l'allarme della Commissione europea. Il professor Barsi dice tante insidie per una democrazia fragile. Su questo c'è anche il messaggero rispetto alle questioni che si sottolineavano in precedenza sul clima che si respira in Europa, l'ombra della violenza, sul voto per l'Unione, le interferenze estere e questo si inserisce in un clima che è di estrema tensione nel vecchio continente soprattutto dopo quanto accaduto due anni e mezzo fa, cioè l'invasione russa dell'Ucraina. Ne parla il presidente polacco Alexei Duda oggi in visita in Italia, incontro della Mattarella. Escalation russa pronti all'atomica, addirittura Mosca, la più grande minaccia per l'Europa. La replica a queste parole non tanto, ma quanto avvenuto nelle scorse ore, compreso l'attentato a Robert Fizzo sta nelle posizioni dei leader più estremi vicini a Vladimir Putin, o meglio agli politici ed esponenti del vertice russo più vicini a Vladimir Putin. Questo è Dimitri Medieve dell'Europa, russofo va colpito perché Robert Fizzo è anche un amico di Vladimir Putin. I sostenitori di Kiev stanno cercando di assassinare i leader non ostili a noi. Troll social sull'attentatore, sua moglie è ucraina. Si è detto incredulo e inorridito Vladimir Putin nel commentare l'attentato a Robert Fizzo e lo ha commentato prima di partire per la Cina per queste due giorni di incontri con Xi Jinping che Giannelli sintetizza così, professore, accordi e garanzie sulla pace e sotto i piedi finisce la colomba della pace soffocata da questi due leader. Però gli accordi sono più economici e commerciali visti da qua perché poi la Cina è attenta a quello, agli affari. Non c'è dubbio, l'ho dimostrato negli ultimi 12 anni, cercando di superare gli Stati Uniti in ogni modo sotto il profilo economico e finanziario, la Cina non ci è riuscita. Io mi ricordo che almeno da 30 anni ho sentito tantissimi commentatori a Delti e Lavori dire che la Cina avrebbe superato gli Stati Uniti in pochissimo tempo e invece gli Stati Uniti sono saldamente la prima potenza economica e finanziaria al mondo e recitano anche bene questo ruolo nei vari contesti. È evidente che la Cina in questo, almeno negli ultimi 30 anni, non è riuscita. A questo punto secondo me è sempre più difficile che riesca, ma cerca in qualche modo di ostacolare il patrimonio assoluto degli Stati Uniti, magari anche attraverso la Russia. È evidente che oggi ha più bisogno la Russia che la Cina e quindi Xi sa benissimo questo. Putin non so fino a che punto non se ne rende conto o bleffi perché lui cerca di non dare a vedere che è una condizione di inferiorità anche in qualsiasi forma di negoziato. È la Cina che comanda, la Russia che si adegua. Certamente hanno l'intento comune di diminuire lo strapotere degli Stati Uniti e questo è un pericolo, però i Stati Uniti sotto il profilo economico vanno a gonfie vele. La Cina invece... Professore, vediamo un dato che certifica come stanno andando gli Stati Uniti, però rispetto a questa relazione Cina-Russia che lei commentava e accanto a questo omaggio che Morobiani firma e disegna per Giorgio Ambrosoli, 45 anni fa veniva assassinato, c'è un fondo, Marta Dassù, un'alleanza asimmetrica. Perché non è un risultato positivo per Mosca sposare questo avvicinamento a Est mollando l'Occidente? Beh, perché il rapporto fra Russia e Cina è fortemente asimmetrico, la Repubblica Popolare è una superpotenza, la Russia è una potenza regionale in fase calante, Pechino non ha mai veri alleati e non ha alleati permanenti, si muove in modo prammatico indirizzata dai propri interessi, quello che ci diceva anche il professore. Terzo motivo, ciò che unisce Mosca e Pechino è l'obiettivo, e lo sottolineava poco fa il professor Fortuna, condiviso, di bilanciare il predominio americano nel sistema internazionale. È una forma combinata di contenimento, ma se lo scenario è condiviso, gli strumenti per realizzarlo lo sono molto meno, perché è vero che nella bilancia commerciale russa pesa tanto il rapporto con la Cina, non è vero il contrario, perché se guardiamo l'insieme della bilancia commerciale cinese valgono tanto, 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 tanto di più i rapporti con l'Occidente, sia Europa, sia Stati Uniti, allora è un'alleanza forzosa, dice l'ambasciatore esegui contro l'America, ma nessuno dei due si fida dell'altro in un contesto che è di competizione Cina-America, geopolitica nel Pacifico e non solo, ma è anche economica, tanto che Biden in piena campagna elettorale ha tirato fuori i dazzi al 100% sulle auto elettriche cinesi, 100% è tanta roba, professore. È tanta roba, i Stati Uniti diciamo che possono anche permettersi queste affermazioni, visto l'andamento economico degli ultimi anni che ha visto gli Stati Uniti andare avanti, io dicevo all'inizio del mandato Trump, nonostante Trump l'economia americana continua a tirare e così è andato avanti anche con Biden, quindi la Cina invece in questi ultimi anni ha visto diminuire notevolmente la sua potenza economica perché il PIL che noi eravamo abituati a vedere crescere a doppia cifra ha subito un ridimensionamento e anche le previsioni per i prossimi anni ci dicono che la Cina non avrà una grande produzione di ricchezza così come l'aveva 10 anni fa. Cresce l'India, però l'India nello scacchiere internazionale ancora mi sembra un po' fuori dai grandi giochi, nonostante sia il Paese che secondo Oxe, Fondo Monetario Internazionale, crescerà di più in termini di PIL nei prossimi anni e già lo sta facendo, però dobbiamo anche considerare che le condizioni di partenza di un'entità che parte dal basso facilitano la crescita, mentre quando c'è una stabilizzazione verso livelli medio-alti crescere diventa più difficile e spesso si verifica il fenomeno contrario. Ci avviciniamo passo dopo passo all'Italia, più o meno, perché parliamo di Stellantis e di auto e di auto elettriche, dicevo più o meno perché una volta c'era Fiat, c'era Fabbrica Italiana Automobili Torino, ora è Stellantis che è profondamente diversa e per, come dire, vocazione industriale ma anche per luoghi di produzione. Stellantis a bordo delle auto cinesi, questa è la ragione. Nicola Sellitti, prima chiedono di formarle, poi collaborano a venderle. Le auto elettriche cinesi sono per noi, vecchio Paese produttore di auto, un enorme problema o una potenziale possibilità di sviluppo nuovo? Beh, sono un problema perché comunque la Cina in queste metodologie moderne per affrontare le problematiche di questo tipo è avanti rispetto ai Paesi europei e quindi ha un vantaggio competitivo non indifferente. Oltretutto l'industria automobilistica non soltanto italiana ma europea si è notevolmente indebolita e forse ha dedicato poco spazio alla ricerca verso sistemi che garantissero maggiormente una transizione ecologica che ormai appare necessaria. Quindi c'è un vantaggio competitivo di partenza della Cina. Come arginarlo? Ma certamente vendere le auto cinesi, mi riferisco al caso italiano all'accordo con l'IPMotor che sembra si stia perfezionando, vendere semplicemente e non produrle in Italia significa diminuire i livelli produttivi se non azzerarli in Italia. Ricordiamo che Stellantis attualmente, come lei sinteticamente ha esposto, c'è stato un processo a cui ho assistito da prima rispetto a lei, per cui dalla Fiat siamo passati poi a tutta l'era Marchionne e poi adesso praticamente i marchi sono Stellantis. Stellantis produce nel 2023 circa 520 mila auto, in tutta la produzione in Italia 540 mila, c'è soltanto Ferrari, insomma qualche marchio di nicchia di lusso resiste, ma Stellantis invece ha il problema degli stabilimenti produttivi, quindi problemi occupazionali, problemi di scarsa produttività, Mirafiori, lo stabilimento classico, Tavaresci aveva detto che entro il 2030 avrebbe cominciato a produrre un milione di auto all'anno, Mirafiori, in realtà non mi sembra che ci siano le condizioni, i sindacati che vogliono parlare col governo, insomma è una questione delicata ma da affrontare. Per venire alle nostre cose, anche quelle dei nostri conti pubblici, ieri c'è stato un passaggio parlamentare non banale, l'approvazione definitiva del decreto che contiene le nuove norme sul Superbonus, sono le nuove norme sul Superbonus perché si è andati di correttivi in correttivi, il titolo della stampa è Gelo delle banche con la retroattività incalcolabile, l'impatto su credito e imprese, dice il numero uno, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana e cioè Antonio Patuelli in una lunga intervista alla stampa, che andiamo a vedere in alcuni passaggi, eccola qua, ve la mostriamo, sorpresi dalla stretta sul 110%, un danno per banche e imprese, la norma incostituzionale ora va corretta, che conti pubblici non fossero floridi, non è certo una scoperta di adesso, le privatizzazioni per ridurre il debito andavano fatte con i tassi a zero. Professore, parto da qua, quando potevamo farlo non l'abbiamo fatto, quando c'erano i tassi a zero, mi dà un primo flash, vorrei rapidamente chiederle un paio di cose. Questa è un'affermazione che non è esente da discussioni, le privatizzazioni sono nate con una certa frequenza relativa, poi negli anni 90, mi ricordo una prima fase di privatizzazione dell'ENI, poi la privatizzazione, che cosa consiste? Nella cessione di proprietà, di quote di proprietà dallo Stato ad altri soggetti, si sono un po' attenuati, adesso sono tornate di moda e c'è la critica, lo Stato così lascia andar via delle quote importanti, però poi se andiamo a vedere la realtà dei fatti, mi riferisco a Monte dei Paschi di Siena, da cui si è ricavata una cifra intorno a 1,6 miliardi, adesso la vendita del 2,8 di ENI, 1,4 miliardi, poi la vendita di quote di poste che dovrebbe dare circa 4 miliardi, l'obiettivo è l'1% del PIL, quindi intorno a 20 miliardi da qui al 2027, non sono quote che alterano poi in modo significativo gli equilibri di composizione del capitale, quindi questo è un elemento che bisogna valutare con attenzione, lo Stato direttamente o indirettamente continua a recitare in queste imprese un ruolo importante, quindi io non farei drammi, certo non si risolvono i problemi del bilancio dello Stato semplicemente con queste priorizzazioni che anche dalle cifre che ho detto non determinano grandi flussi, però magari possono far fronte a esigenze tipo i 20 miliardi che serviranno per rinnovare la riduzione del cuneo fiscale e fare altri interventi importanti. Perché la prossima legge di bilancio, fa bene a ricordarlo, parte da meno 20, meno 16, meno 20, quello che serve per confermare le misure messe in campo, intanto da casa vedevano il manifesto, Eni, Post, FS e le altre via alla privatizzazione, sindacati in piazza, sul superbonus mi dà un flash, ce ne libereremo mai del racconto attorno al superbonus, professore, perché poi il tema è quello, è l'origine di tutti i mali e i conti pubblici, come se il nostro debito pubblico fosse dell'altro ieri, però poi non c'è mai la norma che dice adesso basta, c'è sempre una correzione, mi dà un flash. È una storia infinita, è una storia infinita, 32 provvedimenti, alla fine anche chi li segue con attenzione risulta un po' confuso perché i cambiamenti sono all'ordine del giorno. A questo punto è una soluzione di compromesso anche nell'ambito della maggioranza perché indubbiamente l'idea di retroattività è un elemento che è contrario alla nostra logica giuridica, quindi va criticato, però riguarda i primi mesi del 2024, quindi un arco di tempo limitato, non voglio giustificarla, anche io sono contrario alla retroattività, Forza Italia ci ha provato a fermarli, ma non è stato possibile, quindi andiamo avanti su questo sentiero, però attenzione, quale può essere la conseguenza? Un po' di perdita di fiducia, cioè una volta che si stabiliscono le cose non si possono cambiare in corsa mille volte e poi basta con le polemiche, si sono spesi tanti soldi, il debito è cresciuto per 122 miliardi, è servito all'economia sì in un periodo difficilissimo, certamente non doveva essere dato a pioggia e non al 110%, però questo è un discorso del senno di poi, quindi pensiamo al presente e al futuro, abbandoniamo le polemiche continue giornaliere e cerchiamo di rimediare per quanto è possibile. Sa qual è il problema professore che devo chiudere, oltre che devo chiudere, è che siamo in campagna elettorale, quindi le polemiche continueranno. Grazie al professor Fabio Fortuna per essere stato con noi quest'oggi a commentare i quotidiani, ci fermiamo, una pausa arriva al telegiornale. Grazie a tutti.